ah veniamo giù tutti qui bravo basta che vai giù piano piano grazie per la visione Ancora? Ancora? Cosa sta facendo? Beh? Cos'è fatto? Oh! Oh! Guarda che me lo perdo Alla partita Alla partita Quadra? Alla partita Luce in piedi, seduto a rischi. 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 Luce in piedi, seduto a rischi.